Violenza sessuale su una bambina di soli 5 anni, arrestati il nonno ed il compagno della zia, mentre la mamma della piccola è indagata a piede libero. L'orribile storia arriva dalla Valle Caudina e vede coinvolti due centri in particolare, Cervinara e San Martino Valle Caudina. Nel primo comune si è verificato il tremendo caso, nel secondo invece risiede il fidanzato della zia della bimba. I mostri avrebbero usato violenza sessuale sulla piccolina all'interno delle mura domestiche in una palazzina di Cervinara, il nonno di 54 anni e lo zio di 30 che secondo le indagini condotte dal procuratore capo Vincenzo Donofrio avrebbero agito addirittura con il consenso della madre, abusando sessualmente più occasioni della piccola. Ad accorgersi di ciò che accadeva nella casa degli orrori è stata la coordinatrice della comunità educativa dove la bimba è collocata. Le delicate indagini hanno permesso di scoprire un quadro indiziario raccapricciante. La bambina durante questa fase è stata affidata ad esperti che l'hanno ascoltata. La bimba è stata sottoposta anche a visite specialistiche e tutto il lavoro psicologico e clinico specialistico ha purtroppo confermato che la piccola è stata vittima di violenze sessuali da parte dei due uomini. A rendere ancora più squalide e triste questa tremenda storia è la posizione della mamma della bambina. La donna infatti come detto è indagata perché secondo gli inquirenti sapeva che suo padre e il compagno della sorella conviventi tra il 2018 e il 2019 abusavano di sua figlia.